L'unità di crisi della regione Campania si è riunita per un'analisi dettagliata dei dati epidemiologici in relazione alla possibilità di un ritorno in presenza a scuola al termine delle vacanze natalizie. Sulla base di tale analisi e della relazione che confluirà in un'ordinanza entro questa mattina è stato deciso che le scuole in Campania riapriranno lunedì 11 gennaio 2021. In tale data potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell'infanzia e delle prime due classi della scuola primaria esattamente come era prima della chiusura delle scuole per la pausa natalizia. A partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale la possibilità del ritorno in presenza per l'intera scuola primaria e successivamente dal 25 gennaio per la secondaria di primo e secondo grado. A tal proposito è bene chiarire però che resta confermato per quanto riguarda la DAD didattica a distanza anche in Campania le lezioni riprenderanno regolarmente il 7 gennaio.